Oggi siamo di Podici Verde Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale AliensGamers E qui Alex e oggi siamo con una arrancata di Paladins Con il nostro buon caro Groover Sono abbastanza fiducioso con Groover Voglio dare un'altra possibilità Anche se dall'altra parte non è affatto facile Ovviamente Vabbè vediamo un po' come fa Ci si vede allo starter Allora rieccoci qui Piccola precisazione Un utente in un commento Dell'ultimo video Qualche video fa di Victor Mi ha chiesto di linkare la leggendaria Di far vedere la leggendaria e loadout Allora quando Groover è in cure La leggendaria è questa Rampiant Blooming Con questo loadout Adrenalina Perennial Verde and Expans Gentle Breeze Unstoppable Questo è a 5 Quindi Ti ho lasciato qualche secondo Per vedere Ora ovviamente Se lo loadout O il campione Cambierà Lo farò Lo farò presente Andiamo vai Cazzo Cazzo Ho già dato un commento Devo ricordare Che il mio Che il mio compito È curare Dove è Dove è Nara 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 Per favore No Cazzo Dove è Nara Nara è morta No Buono È che non c'è un mira Madonna mia La mira Madonna mia La mira Non c'ho Mira Dai Tiriamo le asce Miracle Blade Le 3 serie Perfetta Dai Dai Vi ricordate Mi ricordate Le 20 Camira Quel Blade Mamma mia Quanti ricordi Dai Le spadate Mamma mia Mamma Maio Inara Tutte le volte Cosa sta a fare Can Cala Puttana E male Can Dai 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 Boh Inara Ci sta dando Sotto Inara ci sta dando Sotto Quasi un flank Eh Qui ho misclickato Ma ci stava No No Eh Ma Ma Mi hanno stuprato Mi hanno Mi hanno Violentato male Cosa fa Cosa fa Liana 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 No No Toglio Il ringo Non vale Un minimo Sono già Questi No 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 Mamma mia Groove Ti si è salvato Un cazzo D'angolo Mamma No 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 dai eh dai su needy healing però il needy healing cioè non ti puoi lamentare su ciccio eh capisco tutto eh woohoo ringrazio a te il buon caro stronzo che è qui allora Groover non è male come healer solo che aveva una leggendaria non mi ricordo il nome che hanno tolto perché quello qua c'è nuova le leggendali da 4 e i soliti 8 a 3 e io questa qui l'avevo usata quella vecchia leggendaria ma con questa il solito loadout con questo qui funziona apparentemente abbastanza bene vediamo un po' yes yes devo fare yes questo dove andrà bastione di schiena eh in qualche modo devo far bella roba dove è zing di le cingive né le cingive no 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 eh ora me lo sulti no 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 cazzo zino so no 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 fu 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 Eliane è all'aceto ma è... no dai 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 non so che la fusca mi ande poveraccia viene bullizzata vado vizionino stronzo no canno no canno no canno eh scusami canno ma vai in meno scusate se sto un po' zitto ma un groove era abbastanza impegnativa in ara in ara meno male fungirà tank meno male fungirà tank dov'è questo tu ca oh ti osserva eh ciao abbastanza easy dai questa era facile una in ara strana perchè ha flencato non ha fatto i tank ha flencato è difficile trovarli eh i tank che flencano sono difficili almeno per me sono difficili comunque complimenti non dovrebbe essere andata male di pure eh vabbè mixer spray quello di gates eh 140k allora vuol dire che è sempre buono con me forse noi che non sono buono perchè è sicuro eh ma allora dove hai dettagli ti faccio rivedere i 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 a Groover però come il è secondo me il top series e io non lo so usare detta proprio direttamente comunque da ragazzi l'appuntamento di oggi finisce qua ci si vede col prossimo episodio di Go to Grandmaster alla prossima